Un successo più grande di questo non poteva essere per la festa di Abadia Pacciana 2024 che ha riempito ogni angolo possibile e ha lietato le serate di tanti pistoiesi nella tre giorni dal 6 all'8 settembre. Certo, una manifestazione che si può definire monca, vista la mancanza delle tradizionali rievocazioni storiche, ma grazie ai volontari il piccolo borgo ha saputo regalare tre serate di vera festa a tutti i partecipanti. Grazie ad un'ampia varietà gastronomica, immancabili tradizionali bomboloni e musica per tutti. Un regalo alla città che non poteva mancare, ma che adesso apre ulteriori interrogativi sul futuro e sulla modalità con cui verrà messo in atto l'evento, in cui negli anni passati il corteggio storico era un momento centrale, con centinaia di figuranti in costume che sfilavano per il borgo, attirando turisti appassionati dalla Toscana e oltre. Quesiti che torneranno sul tavolo e avranno bisogno di risposte per il prossimo anno. Certo è che Badia ha dimostrato di poter avere una vita oltre alla manifestazione storica, ma con un sapore diverso dal solito, meno tradizionale, ma comunque spinto, grazie ai tanti giovani volontari che hanno a cuore la festa e sono scesi in campo per garantirne la messa in atto. Domande che per adesso rimangono nel cassetto e che si ripresenteranno alla porta del settembre 2025. Intanto il ricordo di tutti è quello di una festa bella, ben riuscita, seppur organizzata da ultimo e per forza, per così dire, ma che ha reso felici tutti.